È di questi giorni la notizia della proposta di direttiva da parte della Commissione Europea che intende vietare la vendita e l'affitto degli immobili che non abbiano determinate caratteristiche dal punto di vista del rendimento energetico. Secondo i geni di Bruxelles, i proprietari di casa devono provvedere per forza a rendere i loro immobili super efficienti dal punto di vista energetico. Infatti, gli edifici che fossero privi dei requisiti ambientali verrebbero espulsi dal mercato delle locazioni e delle compravendite. Entro il 2035 l'intero parco immobiliare nazionale dovrà essere riconvertito. Sono misure che avranno effetti devastanti sul mercato e sulle famiglie. Si ridurrebbe il numero di immobili posti sul mercato e i cannoni di conseguenza crescerebbero insieme ovviamente anche agli oneri sostenuti dai proprietari per adeguare gli immobili ai requisiti imposti. Per carità, l'efficientamento delle abitazioni è importante, ma mettere fuori leggere la classe energetica G in Italia significerebbe di fatto bloccare la vendita e l'affitto di 16 milioni di immobili. Le prime simulazioni sull'impatto della nuova direttiva europea sono pesantissime. In base alle stime dell'Enea, per migliorare il livello di emissioni degli immobili italiani servirebbero 12 miliardi all'anno per i prossimi 10 anni. 120 miliardi praticamente in tutto. Cifre enormi per un'utopia green che chiaramente non tiene conto della realtà. I cittadini europei sono stanchi di essere sacrificati in nome dell'ideologia. La casa è un patrimonio da tutelare. L'idea di penalizzare i proprietari di immobili va decisamente accantonata, considerando che sulla casa, tra l'altro, ci sono già una montagna di tasse. Insomma, siamo francamente stufi di queste sparate di un'Europa che è ovviamente oramai succube dei talebani ecologisti. Servono serietà e realismo. Giù le mani dalle case.